allora eccomi qua a raccontarvi un po cosa sta succedendo ciao a tutti eccomi qua allora come ben avrete già sapete che brando appunto è risultato positivo il 4 niente praticamente vi racconto un pochino tutto allora brando risulta positivo il 4 iniziamo la cura bruttissima esperienza perché si affogava la notte per due giorni è stato con febbre si affogava nel sonno ci siamo spaventati tantissimo comunque brando che ha iniziato a migliorare per fortuna ci siamo un attimino rilassati ma per poco perché subito dopo ha iniziato emma con febbre febbre alta anche lei ha iniziato ad affogarsi nel sonno con la tosse emma mi ha fatto veramente spaventare tantissimo perché ancora ad oggi sta ancora male e ancora positiva mentre brando si è negativizzato la presa in una forma leggermente più tra virgolette grave quindi una forma un pochino più importante e ad oggi ancora la sto curando comunque fatto sta che durante tutta questa questi giorni in cui curavo i miei figli avevo iniziato anch'io con un pizzico alla gola ho passato un giorno intero con mal di testa forte ma un mal di testa di quelli che veramente non avevo da tempo ma quel giorno avevo fatto il tampone ed ero negativa quindi non mi sono nemmeno soffermata più di tanto poi iniziato con sto pizzico alla gola iniziamo con i brividi insomma cose un po strane però dicevo magari la stanchezza uno poi cerca sempre delle scusanti no fatto sta che il 12 che era il compleanno di brando sono stata tutto il giorno male ma male 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 piangevo disperata e avevo delle sensazioni strane in tutto il corpo di calore sensazioni proprio strane fatto sta che poi la notte del 13 mi è salita la febbre dei decimi mi sa la febbre mi prendo subito un antinfiammatorio il giorno dopo mi faccio il tampone e risulto positiva leggermente positiva a casa niente alle 14 prendo e andiamo a fare il tampone sia io che antonio io risulto positiva e lui negativo due giorni d'inferno due giorni veramente 32 barrate di giorni d'inferno con febbre mal di gola forte quindi fiamma alla gola tosse poca devo dire la verità il petto è quello che mi ha proprio distrutto infiammo qui al petto e anche dietro ho iniziato la cura che mi ha dato il mio medico curante di base quindi con antinfiammatorio poi ho preso anche sto prendendo anche l'antibiotico ste cose qua sciroppi naturali insomma un po di cose che aiutano ma vi dirò che non è una passeggiata non come molti che hanno detto una semplice influenza non senti nulla non è nulla tutto dipende da come sta il sistema immunitario calcolate che io non prendevo una febbre dal 2018 quindi era tanto tempo e il fisico prima o poi deve reagire in qualche modo e ha reagito in questo modo a me allora che dirvi molti di voi si sono incuriositi anche dici che cosa si prova dici cosa si sente dici la cura tante di quelle domande mi sono arrivate raga io no a parte che per quanto riguarda la cura io non sono un dottore ripeto a me io mi stanno curando il mio dottore mi sta curando con degli anti infiammatori con e con appunto l'antibiotico e poi sto usando di mia volontà degli uno sciroppo naturale delle caramelline naturali queste cose qua per aiutarmi per quanto riguarda i bambini più o meno la prassa è sempre la stessa solo che purtroppo io ho dovuto usare anche il cortisone per i bambini perché si affogavano nel sonno e vi assicuro che una cosa bruttissima anche io devo dire che una di queste notti ho avuto un pelettino di più sono stata male e poi mi è passato bruttissimo è una sensazione brutta ti senti un calore nel corpo strano improvvisamente tutto un infiammo nel corpo almeno per quanto mi riguarda e ti senti impotente dei dolori altruvoci non ve lo so spiegare comunque nel mio caso non è stato semplice non è stata una passeggiata e via ovviamente sto ancora male si vede oggi è il primo giorno che sto un pelettino meglio però sto ancora facendo la cura non è che ho finito poi mi hanno detto che più o meno dura intorno ai dieci giorni quindi ce ne vorrà ancora di tempo e sicuramente adesso arriveranno i super vaccinati a rompere le scatole ma vi dico che non me ne può fregar di meno e non non cambierò mai idea sul vaccino quindi non perdete tempo fiato denaro non vi sprecate proprio perché non me ne può fregar di meno a me del vaccino a maggior ragione adesso che ho preso il covid non me ne può fregar di meno perché io penso che nella vita si fanno delle scelte e si sa cosa si va incontro io sapevo che prima poi sarebbe arrivato questo giorno prima poi dovevo affrontare la realtà la sto affrontando ripeto non è una passeggiata perché da momenti in cui veramente ti senti mancare il respiro non è semplice nel mio caso soprattutto di obesità perché comunque io il peso in eccesso affrontare tutto questo non è semplice tra l'altro io sto gestendo anche i bambini completamente da sola perché come ben sapete non non possono venire dall'esterno mi stanno aiutando con la spesa a che poi non vi ho detto oggi anche antonio il risultato positivo ma lui sta male praticamente da quando iniziato a stare male io però era risultato negativo stamattina ne fa un in casa positivo ed è corso anche lui in farmacia appunto a confermare perché ovviamente va dichiarato quando c'è un caso di positività niente raga io faccio fatica a parlare quindi adesso vi saluto vi volevo aggiornare ad oggi solo brando si è negativizzato per fortuna il mio piccolino adesso speriamo che è ma quanto prima perché sono in pensiero non vedo l'ora che anche lei appunto finisce insomma questo virus se ne va ecco insomma se ne va se è venuto siamo stati stiamo insieme ora puoi stare con me nasce mia figlia perché ovviamente io ancora lo sento perché raga si sente si sente non è una cosa che non lo so asintomatica fino a un certo punto secondo me un pochino un pochino qualcosa io per esempio un'altra volta quando risulta positiva ero stata due giorni con mal di testa avevo avuto pure l'altra volta mal di gola vi ricordate naso chiuso e basta stavolta invece l'ho preso in una forma pesante non so che dirvi sinceramente però ce la faremo qua lottiamo sempre ormai una vita di lotte il compleanno di brando è saltato ovviamente salterà anche la pasqua domani perché siamo in quarantena e che dire raga io cerco sempre di stare col sorriso di prendere la vita così come viene però che due palle si può dire che due palle perché è bruttissimo è bruttissimo ogni volta ne accade una e niente che dobbiamo fare pensiamo alla salute bene io vi saluto vi mando un bacio mi raccomando tanti bellissimi commenti a un'altra cosa il blog che avevo registrato non li pubblicherò perché non hanno senso cercherò quanto prima di ricominciare a blogare anche perché le aziende mi stanno sul collo perché purtroppo loro non capiscono mai i problemi loro basta che tu gli fai uscire il prodotto cioè non è che ti vengono incontro sono poche quelle che ti vengono incontro e quindi ce l'ho tutte sul collo queste aziende ed è un po pesante sta situazione quindi quanto prima voglio ricominciare a bloggare a farvi vedere i prodottini che mi sono arrivati che poi tra l'altro sono anche cose belle però se io sto male non è che ce la faccio a fare pure che faccio di un prodotto non ma in queste condizioni io un video spiegazioni o che ve lo posso fare perché giusto che vi racconto che sta succedendo però questa faccia ma come faccio a pubblicizzare un prodotto certo capito bene ragazzi detto questo io mando un bacio e ci aggiorniamo presto magari anche domani non lo so adesso video se mi sento meglio ricomincerò a bloggare ciao